eccomi qui ragazzi con la seconda parte del video allora parliamo innanzitutto di questo detergente intimo allora questo di felce azzurra della linea bio cioè quella certificato i cea cosmos organic quello alla aloe vera e tè verde intimo ph.5 rinfrescante ginecologicamente testato da una buona sensazione di pulito la cosa rinfrescante non l'ho notata ma io preferisco che sia una cosa rinfrescante lieve perché tipo il chili non lo sopporto mi brucia mi irrita non mi piace e quindi mi va bene che non abbia dato si freschezza ma nel senso di sensazione di pulito in passato utilizzato mi sembra anche quello alla malva e non mi ricordo cos'era con dell'altro dell'altra linea cioè sempre della stessa linea ma l'altro con l'altro ingrediente diciamo e mi era piaciuto anche quello è un pet da 250 ml 12 mesi dall'apertura quindi come vi ho detto contiene questi due estratti per una immediata sensazione di benessere delicato sulle mucose ideale per l'igiene intima quotidiana quindi può essere usato tutto il giorno ed è stata una ed è una formula sviluppata secondo i più alti standard della cosmesi biologica mi è piaciuto poi aspettate che avvicino a me le masche scusatemi ecco infatti mi sono rimaste là le ultime uniche due piccoline eccomi qua poi ho terminato questo di neutro roberts a noi non vi ho detto questo qui l'avevo riperito non so dove lo potete trovare adesso io l'avevo preso da tosano ma l'avevo trovato anche in offerta a lidl ma un bel po di tempo fa a lidl ho preso anche questo neutro roberts olio doccia un olio di cocco ossettificante illuminante per pelle morbide sana dettaglio senza ungere non mi è piaciuto non mi è piaciuto il modo che ha l'avante troppo liquido troppo sa proprio di un di un dolce schiuma proprio industriale non mi è piaciuto il tipo di schiuma l'odore non è non è male è più buono adesso che è finito cioè è buono non usarlo da qui ma poi sulla spugna si disperde molto e non non persiste secondo me dice che è adatto per le pelli sensibili secche arricchito con olio naturale di cocco ossettificante illuminante aiuta la pelle proteggersi dalla secchezza cutanea la sua formula leggera e delicata delicatamente profumata non ungere della detersione quotidiana un vero momento di piacere l'inci non mi piace l'ho preso perché era in offerta volevo provarlo mi andava di sentire un po di profumo di cocco ma non ve lo consiglio ho visto che ci sono in offerta da lidl altri con altri profumazioni tipo quello all'olio d'argan non so come siano quelle ma a me questo qui non mi è piaciuto non mi è dispiaciuto ma non mi ha neanche fatto dire wow è questo bagno schiuma energizzante tonico della ph bio plus 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 non so come si pronuncia plus plus più energizzante tonico arricchito con olio essenziale di arancio dolce per una pelle idratata e tonica flacono 100 per cento riciclato è certificato biologico quindi certificato agli hub vegan ok contiene stati di arancio dolce menta piperita io l'odore della menta non l'ho sentito assolutamente così ci sarà dentro qualche strato ma non il profumo ecco di menta e neanche di eucalipto determina in maniera delicata ma profonda conferendo alla pelle tonicità profumazione raffinata un odore di arancio però è un arancio molto molto delicato è finito il tuo cartone scusate che vi faccio partire un altro cartone tanto sono qui vi vedete e vi stavo dicendo ha un arancio vedete proprio c'è si fa quel che si può per registrare un video ha una profumazione e non è che sono una mamma ingrata che l'ho sbattuta davanti alla televisione registro video determinati poi siamo andati a comprare la terra per fare l'orticello per piantare i pomodori per portare l'insalata dopo andiamo a fare qualcosina fuori se il tempo permette comunque anche se dovesse piovere o sgocciolare ci mettiamo sotto il perdonato sotto il balcone qualcosa faremo quindi vi stavo dicendo è carino perché qui dietro hanno messo un po la leggenda dei degli estrattini di tutto dell'inci però sinceramente non mi piace particolarmente la come l'hanno studiata perché non è che ti dicono bollino bianco bollino verde perché comunque tutto bollino verde però o giallo verde però scrivono tipo acqua vabbè acqua purgata ammonio leucrisulcrate scrivono che un detergente è origine perviene dall'olio di cocco cioè è carino il fatto che ti dicono da che origine ha la diciamo il principio attivo però ecco la traduzione tipo aloe barborensis juice estratto di no è vera queste estratte estratte di lavanda di eucalipto di menta di arancio dolce derivati dell'olio di palma di cocco è carino sale da cucina saldi un cloridride colori e qui a fianco vabbè c'è scritto adesante idratante tonificante purificante tutto quanto però non è che come faccio a spiegarvi cioè vi spiega da cosa deriva e che cos'è però non è che vi dà delle indicazioni sulla bontà dell'ingrediente o no cioè con un con una certificazione cioè questo mi sembra un po' superfluo perché uno non è che va lì e legge ah sì c'è questa cosa ah bene un addensante cioè sì carino però mi sembra un po' comunque lasciamo stare considerazioni mie personali e naturalmente comunque non è male a un buon qualità a un buon prezzo rapporto qualità prezzo anche considerato il fatto che comunque sono 500 ml di prodotto noi lo stiamo finendo di utilizzare in questo momento lo vedete qui finito perché dato che un boccettone un po grande da tenere sotto la doccia io l'avevo usato metà poi dato che è finito un altro doccia schiuma che usavamo in concomitanza l'ho trovasato di là però sì il profumo è molto delicato è un doccia schiuma come un altro non mi ha fatto venire voglia di dire ah quando c'è agli sconti o quando l'idolo riproperrà lo prenderò insomma poi altra cosina che ho terminato è questo prodotto di Milvita che ve ne avevo parlato già su instagram si chiama lor rose è una crema un olio gambe in realtà è un bifasico per gambe leggere quindi in due fasi c'è la parte acquosa e la parte oleosa si agita e si spruzza allora lo spruzzino quando ero arrivata a metà è iniziato a farvi un po' tribolare passatemi il termine già la cosa mi fa un po' incavolare perché dopo non usciva più nebulizzato ma usciva col getto dritto quindi tu te lo schizzavi e te lo spruzzavi e schizzava dappertutto vabbè a parte quello mi ha dato una buonissima sensazione alle gambe l'odore non mi ha fatto impazzire probabilmente per il fatto che l'ho comprato per errore perché pensavo che fosse l'olio tonificante di Milvita che ha un odore ragazze straordinario spettacolare non ho ancora ricomprato ma quest'anno giuro lo devo prendere e quindi quando me lo sono andata a spruzzare scusate e ho sentito questo odore ho detto no non è lui e quindi mi è stato un po' sulle palle passatevi il termine da subito l'odore perché mi sono stata delusa che mi sembrava mi aspettavo che avesse l'odore dell'altro ecco diciamo così e comunque questo è di Milvita come vi dicevo è da una buona sensazione è certificato Eicosair dà una buona sensazione di gambe leggere e riposate funziona a me è piaciuto e non volevo dirvi quante ml era 100 ml di prodotto il prezzo non me lo ricordo mi sembra che vada dai 18 ai 24 a seconda di dove lo prendete io l'ho trovato da Tigotà ma non nel mio perché non ha il Milvita però secondo me se lo comprate online lo pagate molto meno lo trovate da altre parti poi veniamo a noi la parte che ci interessa di più pecciocchi allora pecciocchi aspettate che butto questi tanto sono uguali ne ho fatte due confezione allora in questi diciamo 15 giorni ho fatto due volte questi di Garnier che non gli dava una cipa lippa invece devo dire che non sono male Garnier Schiractive anti pecciocchi maschera occhi anti fatica sono di quelle meno 4 effetto ghiaccio io non li ho messi in frigo perché a me dà un po' fastidio questa sensazione di freddo anche perché comunque io non ho occhiai cioè occhiai ma non ho borse quindi ho bisogno di un prodotto più che altro che idrata e non ho molto da sgonfiare ecco diciamo per un contorno occhi spento e stanco queste specie in tessuto sono infuse di una formula ultra fresca arricchita con succo d'arancia e acido iaruronico per un contorno occhi tonificato riposato e luminoso dopo come teni su 15 minuti dopo hai un effetto idratato le borse ok diminuite vabbè dopo una settimana il contorno occhi è energizzato l'effetto ghiaccio sulla pelle dopo lo utilizzo per una sensazione ancora più fresca con selvola in frigo sono 6 grammi di prodotto sono made in china purtroppo preferisco comprare i prodotti made in Italy comunque ne ho presi due mi sono trovata bene e mi piace perché non sono quelli tipo questi che adesso vi faccio vedere che si attaccano modi cerotto questi sono proprio imbevuti bagnati di un tessutino leggero cartina che voi lo appoggiate rimane lì non si muove potete fare qualsiasi cosa io di solito faccio colazione mentre li faccio così ammortizzo i tempi morti ecco diciamo così poi invece questi qui della skin station mi piacciono meno tra tutti i prodotti diciamo tra tutti i peciocchi che ho provato in passato però insomma non sono male neanche questi questi li trovo più piallanti li vedo più adatti e un contorno occhi più segnato io ho un contorno occhi al momento anche se ho 43 anni scusate le occhiaie terrificanti ma è due giorni che dormo male vedete non ho rughe anche se faccio grig e mollo tornano subito a posto la pelle è abbastanza lastica del contorno occhi non ho particolari problemi non ho borse non ho segni di espressione ho un po' di rughette da fotoesposizione infatti se faccio così vedete sono righe di espressione non sono tanto qui ma sono quelle messe per così povera me vabbè quindi vedete non ho un contorno occhi praticamente problematica però mi piace farle me ne ho un po' una coppola a me quei ciocchi piacciono tanto spero di prevenire quello che mi verrà in futuro questi sono un pochino anche più dolorosi da togliere si aggrappano tipo cerotto proprio anche quando li dovete togliere li teneteli dai 15 a 25 minuti non vi consiglio di tenerli di più nella scatolina ci sono 8 pezzi bellezza tu si che sei bella vitamina E collagene acero di aluronico oro 24 caratteri si ti faccio un altro cartone dopo basta sti cartoni sta buona solo tanti che zargo ne ho comprate due confezioni da 8 pezzi quindi da 4 utilizzi perché acquistandone 2 sul secondo pezzo c'era il 70% quindi mi sono venuta a pogare cioè una sciocchezza e dato che me li uso complicato come coccola per prevenire mi sono piaciuti e li ho presi insomma da figota questo mese credo che non è fatto se era in aprile o in maggio credo in maggio ci fosse stata questa offerta poi passiamo alle maschere allora maschere in crema o in tessuto allora maschere in crema ho terminato questa qui di Sien coenzima Q10 anche la batteria ci sta lasciando allora facciamo così dato che sono 12 minuti vedete come sono sempre tutti ben programmati bene i miei video non succedono mai inconvenienti vero avevo la batteria 70% ho metto oggi che registro quindi per forza quindi ragazzi facciamo così prima che si spenga il telefono che dopo non riesco più a registrare perdo anche questo di video ci vediamo dopo con un altro video dove faccio vedere solo quindi finiamo quel video dei terminati baby però sappiate dei terminati beauty ma sappiate che all'interno dei terminati ci sarebbero dovute essere anche le maschere viso tessuta crema e gel che ve li metto in un video a parte che sarà pubblicato subito dopo questo che si chiamerà tutte le mie maschere del periodo preferite del periodo insomma così niente ci vediamo dopo allora io vi mando un bacione vi do le solite raccomandazioni che sono quelle di iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdere i futuri video condividere i video se mi volete aiutare a crescere seguirmi su instagram io sono nel mondo dell'IS76 datevi raccomando vedere anche le storie in evidenza perché ci sono cose molto interessanti soprattutto riguardanti gli ingredienti l'inci ci sono storie super esempio interessanti sulla vitamina C sull'acido ialuronico sul collagene scoprirete cose che magari non sapete e quindi niente lasciatemi un like un commento che mi fa sempre tanto piacere e ci vediamo al prossimo video con tutte queste belle mascherine guardate quanta rubina in modo a farvi vedere ciao